Lobby sì, ma trasparente. E questo è il tema trattato oggi a Palazzo Lascaris. Il Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con il progetto Open Lobby e FB da Associati, ha organizzato infatti il convegno Lobbing, Trasparenza e Cittadinanza Attiva nei Processi Decisionali. Un appuntamento di riflessione e approfondimento tra istituzioni e territorio. Il Consiglio regionale come istituzione ha mostrato sempre grande attenzione nei confronti della trasparenza. Mi riferisco ad esempio alla banca dati Ariane. Manca a livello nazionale una regolamentazione riguardo ai contatti dei decisori con i soggetti esterni, le cosiddette lobby. Questo convegno ha l'obiettivo di verificare se esiste la possibilità di adottare una norma regionale che vada a regolamentare la questione, sempre nel massimo interesse per la trasparenza e la responsabilità in tutti i processi decisionali. Gli interventi atti a contestualizzare la materia sono stati tenuti da Alberto Bitonti, Università della Svizzera Italiana, Paola Perotti, FB and Associati e Gianluca Sgueo, New York University. Aprire un confronto con gli stakeholders per cercare di individuare il percorso migliore, per arrivare ad una regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli interessi, a beneficio del processo decisionale, quindi dei cittadini piemontesi non può che trovarci d'accordo. Io mi occupo di relazione istituzionale, di lobbying, ormai da diversi anni. Sono partner di FB Associati, una società che nasce più di vent'anni fa e che per la prima volta, senza alcuna vergogna, tra virgolette, ha dedicato in via esclusiva la sua attività proprio alla rappresentanza di interessi. Io credo che la sfida della regolazione dei gruppi di pressione, quindi della trasparenza, si possa vincere a due condizioni. La prima è che si abbandoni l'idea della trasparenza a tutti i costi. Le regole esistono nel contesto istituzionale, non si può pretendere che il rappresentante di interessi sia sottoposto a vincoli anche quando è al di fuori delle istituzioni. La seconda è che un investimento importante dovrebbe essere sulla reputazione. Quali leve convincono il lobbista ad aderire alla trasparenza per essere più conosciuto e quali invece al decisore pubblico per rendere pubblici i propri incontri? A regolamentare il lobbying oggi si deve concentrare a partire dalla filosofia dell'open government, del governo aperto, che prescrive valori quali quelli dell'inclusione, dell'apertura, della trasparenza e dell'accountability, fondamentale proprio per arrivare a un processo democratico più giusto, più inclusivo e in fin dei conti migliore.